Controllate quattro aziende e verificate 15 posizioni lavorative scoperti tra i lavoratori in nero con conseguente maxisanzione di 4.000 euro per ogni lavoratore. Combinate ammende per 5.150 euro, contestate sanzioni amministrative per 19.166 euro, recuperati contributi e premi assistenziali per 27.000 euro, contestate sanzioni per recuperi IMSS per 9.300 euro. Questi risultati di una maxi operazione dell'arma dei carabinieri colpite aziende nella provincia di Gela e Assommatino che sono state trovate mancanti dei requisiti minimi di controllo e di tutela dei lavoratori, tra i quali anche un'agenzia funebre e un'azienda agricola. In totale le sanzioni combinate contro il lavoro nero sono state 60.000 euro.